salve buongiorno qua deve prendere la corriera? ah si si prego che linea è? 91 vero? 91 direzione bologna abbiamo anche l'81 qua di fronte salve buonasera proveniente da lungara salve buongiorno autista e che dire niente partiamo autista parto io? sto cazzo è lento siamo ultimazze fierro che sta provando dannatamente a accendere questo macchinino di dubbia provenienza rigorosamente fregato all'aeroporto di bologna e niente adesso ci sta ci sta provando il ragazzo andiamo a dargli una mano va la come si accende? come si chiude sto cazzo di portello? allora intanto prima cosa allora dovresti introdurre che io aspetti un seconda mi faccio aspettare eh si non so come si chiude sto cazzo di portello allora dovrebbe aspetta eh la chiave? eh c'è ma suona suona tantissimo urca puttana suona suona tanto chiudi chiudi aspetta aspetta ah perché è eretto di me fatto perché suona tanto? perché ci prende qua no basta basta così così suona tantissimo no 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 così così come si chiude sto coso? perché non chiude qua? perché non chiude? vai là così poi vieni a prendere questo Sono in giro Come si chiude sta porca porca Allora hai capito come si chiude? Si 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 Vado a prendere il cazzo Chiudi Parte perché devi dare gas forse Ma sto tirando la stacca Porca puttana Dio Porca puttana Inseguiamolo quel frascio Oddio Popo Ale Ragazzi stiamo andando Oddio Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Bellissimo check out the next video Bi wal 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 Bi à Biat Bi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di impianto, di illuminazione. Su Dio che non sta... Cioè, il vetro è impannato. Cioè, qua c'è il... Oddio, mi stai chiamando Alex, aspetta. Oh! Porca puttana! Ah, Olti! Minchia! Oh! Oddio! Mamma mia! Ciao, Olti! Allora, mi han cambiato mezzo. Non è potente, quindi. Hai visto? Verde, perzi, sei un'arma del genere. Olti? Olti? Perché non parte? Ah, ok. Olti? E non parte? Ok. È partito, è partito. È arrivato anche il signor Bertolasi. Linea 576, da crema corra. Esatto, lei è lì a 576. Eh, non va! Non va! È un'ultima, saffi... Eh, no! Che cazzo fa? È un'ultima, saffi... Che cazzo fa? Non si vede una minchia... Che c'è? Lo vuoi? Quale quello lì? Ah, ok, abbiamo caricato il primo passeggero. Ma possiamo? Cosa? Andare? Quale? Quello lì, omologato. Ma non abbiamo tempo. Ma sì, non è di 40 minuti. Un po', sì, un po'. Però il 30% dice che è scuso. Prossimo video. I prossimi video ne lo faremo. Allora, salve. Buongiornissimo. Porca madonna! Ah! Volevo urlare. Ma fai il culo. Ok. Allora, buongiornissimo. Scusate, stavo riprendendo. Scusate, questo è imprevisto. Inquadra un attimo. Inquadri un attimo, per favore. Inquadri anche l'ultima stafiero. Si vede un cazzo. No, no! Di 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 non sfarrarare. E quindi che dire? Adesso... Tangra. Troppo dannatamente il mio ciaolo sta riposando in pace. Cioè, tornerà, si chiama. Lo risuscita. Però... Chissà quando. E cosa dice il signor Bertolasio? Eh, chissà quando. Eh. Chissà quando. Eh, speriamo. Speriamo che torni il prima possibile. Adesso dobbiamo accontentarci di questi. Però ragazzi, sempre benissimo. Lì c'è il terzo mezzo. Esatto, lì c'è il terzo mezzo. E... Che dire, che dire, che dire. Lascia di rascarmi. La caramita. Bravo. Comunque... No, perché... Allora... Adesso... Questa cosa qua io l'avevo chiesta a Federico. Ti giuro. Io l'avevo già chiesta a lui. Perché lui... Le ho detto. Quando appena prendevo la patente. Tu che... Insomma, lui... Ti incolpi per tutto. È un bastardo Alex. No, perché ti trovi sti inchiodare? Allora... Ma una volta inchiodato... Cioè... E lei invece? Col culetto vergine. Eh, che cazzo. Cioè, veramente, a volte giuro. Veramente a volte c'è... Dovresti avere un avvocato per quante volte ti incolpano. Ti mando i video, va? Sì, grazie. Veramente a volte dovrebbero incolpare... Veramente dovresti trovarti un avvocato. Arribano adesso.